Gagliardi, credo che si possa ripartire anche per programmare le prossime partite dai primi 20-25 minuti del primo tempo di questa sfida perché insomma è stato un primo tempo molto equilibrato in cui il campus è riuscito a tenere testa al Colonia e poi dopo nel secondo tempo insomma il Colonia ha dilagato. Sì, la verità in tutta la partita abbiamo un problema difensivo, la seconda parte abbiamo anche un po' di difficoltà nell'attacco però secondo me la principale elezione di oggi è stata la difficoltà per difendere sia 5-1 sia 6-0 abbiamo preso tanto uno contro uno, abbiamo perso tanto uno contro uno abbiamo stato con un problema, i meccanismi di aiuta e anche per difendere il pivot abbiamo stato con un problema quindi la mia analisi della partita di oggi è che è stato un problema grande difensivo. Comunque il cammino di crescita di questo gruppo continua insomma, no perché poi gli obiettivi non sono le partite specifiche anche se fa sempre piacere insomma vincere una partita, gli obiettivi sono altri per questo gruppo almeno in questa fase. Sì esatto, noi sappiamo che sono giovani ragazzi quindi è normale questa variazione di performance in senso che possiamo pensare a una montagna russa però dobbiamo stare tranquilli, vedere chi abbiamo sbagliato, chiaro per fare meglio e continuare a lavorare perché adesso siamo in un momento importante finale di preparazione per la qualificazione degli europei. Questo è un gruppo che anche vedendolo dall'esterno sembra molto equilibrato nei valori al di là magari di qualche giocatore che eccelle più degli altri però mi sembra abbastanza equilibrato. La conferma è anche le tante rotazioni che fai in panchina insomma durante le partite, no? Sì esatto, siamo in un gruppo equilibrato però dobbiamo investire in rotazioni. Primo perché l'idea è fare una intensità in tutta la partita quindi la rotazione è fondamentale. E l'altra cosa è che siamo in un settore giovenile e che dobbiamo con questo progetto inserire tutti per sviluppare tutti i giocatori per arrivare a un alto livello dopo la fine del progetto. Oggi ci arrivano due punti importanti per la classifica per un Cologna che tra l'altro nelle ultime quattro partite o anzi nelle ultime cinque partite ha conosciuto ben quattro vittorie, si sta rilanciando piano piano in graduatoria. Nostro obiettivo comunque rimane sempre a salvezza, noi siamo la squadra più o meno come l'anno scorso fino adesso abbiamo giocato praticamente gli stessi dall'anno scorso e siamo venuti qua ovviamente per giocare la nostra partita. Innanzitutto vorrei ringraziare la squadra del Campus per l'ospitalità e per l'ottimo gioco che hanno espresso perché giocano una pallamano molto veloce, dinamica, moderna. Certo sono molto giovani, quando incontrano poi una squadra un po' più esperta l'esperienza alla fine viene fuori però soprattutto nella prima parte del primo tempo ci hanno messo molto in difficoltà. Dopo siamo riusciti a trovare un equilibrio giusto e pian piano siamo venuti fuori noi. Per noi era una partita molto importante che contava anche per dare la continuità e siamo riusciti a vincerla. Diceva prima obiettivi di salvezza per questo gruppo ma è un campionato che sembra molto equilibrato insomma non sembra che ci siano delle grossi leader insomma tutti possono vincere o perdere con tutti no? Effettivamente è un campionato molto difficile, come diceva lei molto equilibrato perché decidono davvero i dettagli. Basta sbagliare poco, essere magari un po' deconcentrati o anche qualche episodio può cambiare completamente la partita ma non c'è una squadra che fino adesso si è staccata talmente tanto per dire loro. Si gioca veramente sui minimi dettagli quindi è un campionato molto molto interessante. Primo tempo chiuso sul più 4 oggi contro il Campus per voi poi nel secondo tempo avete allungato. Cosa ha detto alla sua squadra degli spogliatoi per fargli cambiare marcia? Allora sapevamo che nella prima parte potevamo soffrire un po' anche per il fatto del viaggio. Siamo partiti stamattina alle 5 e mezza poi si sta in giro tanto e loro veramente ci hanno messo in difficoltà soprattutto in velocità. Facciamo un po' fatica a coprire la loro ripartenza ma quello che è cambiato oltre la nostra difesa è anche il nostro approccio in attacco. Siamo diventati un po' più aggressivi che è quello che gli ho chiesto di essere un po' più aggressivi e far valere il nostro peso e la nostra esperienza. Gian Bartolomei, arriva una sconfitta contro il Metelli Cologna però credo che per come si è giocato soprattutto nei primi 20-25 minuti è un buon segnale cioè un punto da dove ripartire quei primi 20-25 minuti. Sì, noi sicuramente abbiamo iniziato il campionato sapendo che tutte le partite che giochiamo in casa o in trasferta siamo lì per vincere o perderle. Dobbiamo ripartire da questi 25 minuti iniziali perché abbiamo sia difeso che attaccato molto bene poi il secondo tempo ci siamo un po' spenti dal punto di vista difensivo ma andiamo a lavorare questa settimana per migliorare. Sicuramente ogni allenamento, ogni settimana facciamo dei passi avanti come gruppo, come squadra d'intesa in campo e fuori dal campo perché comunque vivendo insieme fa tanto a livello d'intesa personale e di squadra. Cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto un ritorno di campionato con tante emozioni perché lavorando tanto anche abbiamo gennaio, le qualificazioni europee siamo molto motivati e speriamo solo di fare meglio e rubare qualche punto in più. Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio dell'anno, abbiamo fatto molta fatica la prima partita a Bologna poi piano piano ci siamo ripresi, ci siamo riguardati in faccia tutti insieme e abbiamo detto che o insieme ripartiamo o insieme ripartiamo e così abbiamo fatto. Oggi avete un po' sofferto nei primi 20-25 minuti con la gara a punto a punto poi avete trovato un po' il giusto break sul finale del primo tempo che avete chiuso sul più 4 poi nel secondo tempo avete allungato. Cosa siete riusciti a fare? Dov'è che l'avete vinta questa partita? Abbiamo secondo me cambiato marcia in difesa, abbiamo ricominciato a scorrere molto di più a essere più aggressivi, a essere tutti più compatti e più vicini Campus è sicuramente un'ottima squadra di giovani, molto bravi, con tanto entusiasmo che ogni sabato non hanno niente da perdere, solamente dimostrare tutti i progressi che possono fare e per fortuna siamo venuti qui così presto perché venire qui a fine anno a vincere sarà molto tosta. Classifica corta, quali potrebbero essere gli obiettivi di questo Cologna? Fare più punti possibile, vincere più partite possibile e toglierci qualche sfizio.